Code of War 2 Stryker Zone, mappa casuale, angelo in battaglia, penso che sta prendendo la notifica della webcam che non va, non ho capito perché non l'ho disattivata, ma bene, connessione al server, siamo nella stazione di treni, 104.000 dollari, quindi poi posso potenziare quella che è la mia arma che sempre utilizzo. Siamo uno contro tutti, andiamo a beccare un po' di persone, va? Vediamo questa volta lo stile di gioco dove ci porterà, ovvero... Non ho capito dove arrivano gli spari, ragazzi, non è proprio niente, e qui ce ne dovrebbe essere uno, dov'è? Uh, sono andato verso l'alto, com'è possibile? Allora, o c'è qualcosa che non vale nella mia posizione qui, di battaglia, come sempre? C'è l'altro, dov'è? E' un minuto che ci non fare fuori anche lui, perfetto. C'è qualcuno... Win, tutte le ragioni di questo mondo. David Monell, con te ho già giocato. Vediamo se arriva. Dove è andato? L'ho perso. Allora, l'ho perso. Non scendermi. Io sono perso. Sono perso. Sì Facciamo un bello rirovato ragazzi Adesso iniziamo a vedere se andiamo a beccare qualcun altro Continuo a sentire spari ma non capisco dove sono messi Mi hanno distrutto anche a mercato E qui non c'è nessuno Dovremmo andare a vedere dall'altro lato se troviamo qualcuno Perché stanno andando lentissimi Siamo solo sei in gioco in questo momento Un'verso lato Dove sei? Non ti vedevo, cavolo Ho perso il conteggio di quanti siamo arrivati Anche lui fatto fuori, non c'è più nessuno che possa far fuori Niente ragazzi, ho perso il conteggio di quanti ne ho ammazzati questa volta Devo essere sincero, 22, 645 abbiamo già preso in mano una situazione Coda World 2, Angelo, ci vediamo alla prossima